La ricostruzione degli edifici privati del territorio aquilano potrà concludersi con la certezza che i contributi della ricostruzione saranno adeguati ai maggiori costi. È stato approvato un emendamento nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto 76. Con questo sono state formulate delle disposizioni per le ricostruzioni successive alla calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di eventi internazionali. È una norma che in sostanza permetterà agli uffici speciali di adeguare i contributi ai maggiori costi della ricostruzione, anche quando cesseranno i benefici del sisma bonus. Soddisfatto il sindaco Pierluigi Biondi, che ha voluto ringraziare i senatori Liris, Salvitti e Sigismondi per aver sostenuto e promosso l'emendamento che lui ha fortemente voluto, congiuntamente alla struttura di missione agli uffici speciali per la ricostruzione con cui si è lavorato in sinergia. L'emendamento è fondamentale anche perché introduce un nuovo metodo, con largo anticipo rispetto alla scadenza dei benefici del sisma bonus 31 dicembre 2025, si è trovata una soluzione che permetta agli uffici speciali di adeguare il contributo per la ricostruzione ai maggiori costi, fino a un importo massimo di 285 milioni. Con questo ulteriore aggiustamento la ricostruzione privata è in salvo. Il primo agosto inoltre il CIPES dovrebbe approvare un piano di oltre 160 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili pubblici.